Cambio 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 Fallo Eh, quella di punizione Si Non lo puoi? Si 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 Ma quello è un tocco che se lo fai bene e fai gol Si, si Qui I Si I I I I I I I no! tredo o tredo è andato ok va 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 oh l'ho manciato una vera ho troppo giocato gli attacchi sono 4 batte con il gioco quello questo si va 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 si si angolo va va l'oro angolo tutti di qua l'oro 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 l'oro